Presa di posizione dei circoli vigevanesi di Fratelli d'Italia contro l'assessore comunale alla sicurezza Nicola Scardillo accusato di non rispettare la linea di partito. Il casus belli rappresentato dalla lettera aperta che Scardillo aveva inviato ai commercianti cittadini in tema di Green Pass. L'assessore raccomandava agli esercenti di sensibilizzare sull'utilizzo del certificato verde invitandoli a essere puntuali nel richiedere ai clienti nei casi previsti dalla normativa. Nella lettera veniva inoltre precisato che le forze dell'ordine a partire dalla polizia locale avrebbero eseguito i controlli del caso. Quelle di Scardillo sono dichiarazioni che rappresentano il pensiero personale dell'assessore e non le specifiche direttive del partito, scrivono i presidenti dei tre circoli locali di Vigevano, Andrea Di Pietro, Simone Annibale Ferraris e Luca Battista. A livello nazionale infatti Fratelli d'Italia è fortemente contrario al Green Pass che invece Scardillo definiva nella sua lettera ai commercianti un provvedimento utile insieme al distanziamento e all'uso delle mascherine per evitare eventuali provvedimenti più restrittivi e garantire la continuità delle attività. Parole in contrasto con quelle espresse dai dirigenti nazionali del partito di Giorgia Meloni che parlavano invece di misura scellerata, discriminatoria e coercitiva. I presidenti dei tre circoli vigevanesi precisano che sulle procedure di controllo delle norme relative al Green Pass è la prefettura a intervenire. Compito dell'assessore alla sicurezza conclude l'attacco dei dirigenti locali del partito e di chiedere al comandante del corpo di polizia locale una migliore organizzazione delle risorse per contrastare la forte attività di spaccio e microcriminalità presente sul territorio ed eventualmente dotare il comando degli strumenti necessari ad affrontare un'emergenza oggi molto evidente.